Il Barcellona sembra Napoli ordinata in qualche modo, è una città molto simile a un'area Sembriamo cugini in qualche modo Per gli aspetti positivi e anche per gli aspetti negativi Adoro la Catalogna grazie a George Orwell In omaggio alla Catalogna, mi aveva fatto innamorare di questa terra E anche grazie a Lionel Messi Che ovviamente è la cosa che più somiglia a Maradona E quindi Barcellona mi è cara anche per queste cose Io vengo da un posto dove qualche anno fa ci fu una faida molto feroce Tra due famiglie, i Di Lauro e un gruppo rivale che si chiamava Gli Spagnoli E si chiamava Gli Spagnoli perché aveva la sede dei loro affari proprio qui a Barcellona E questo mi ha sempre molto colpito perché mentre nel quartiere dove io vivevo Che tra l'altro erano i quartieri spagnoli Era normale pensare alla Spagna come un territorio Diciamo per la criminalità appetibile e appetitoso Per i cittadini spagnoli in realtà non c'era questa percezione C'era ovviamente nei magistrati, c'era negli ispettori di polizia Ma non c'era in realtà nei cittadini spagnoli Il terrorismo, come ovviamente sapete meglio di me, l'attentato avvenuto in Spagna E' stato finanziato con i soldi della droga E se il narcotraffico non avesse avuto così spazio in Spagna Forse quegli attentati non sarebbero stati così facilmente finanziati Questo in realtà credo che sia un problema anch'esso sottovalutato Raffaele Amato è stato arrestato tra l'altro qui dalla polizia spagnola Poi è stato scarcerato per un problema di giudiziario italiano Tra l'altro fu arrestato a Barcellona mentre stava giocando a Black Jack Qui in qualche locale di qui E credo che ancora lui viva da queste parti E la cosa divertente quando venni un anno fa a presentare il libro E che la mia scorta mi segnalò Dice non andare sulla Rambla perché c'è in un locale sicuramente i rischi di incontrare Raffaele Amato Mi aveva molto colpito che sapevano benissimo dove fosse Ma era difficile allo stesso tempo arrestarlo Nel dire che il futuro della democrazia e soprattutto del libero mercato in Europa È davvero determinato da quanto i governi decidano di tenere al di fuori i capitali criminali Perché è proprio in questo momento che l'oro Parlo per esempio delle cifre del narcotraffico Faccio soltanto un dato La procura nazionale antimafia italiana Fattura Segnala che la fatturazione delle organizzazioni criminali È di circa 100 miliardi di euro l'anno Cioè la più grande economia italiana Ora questo significa che È una quantità talmente grande Che forse l'Europa non potrebbe fare a meno di questi soldi Non faccio paura io per niente Non fanno neanche paura le mie parole in sé Quello che fa paura è il mio lettore Il fatto di essere così letto E di essere arrivato a così tante persone ha messo paura Se il mio libro fosse stato letto da poche persone E le mie parole non fossero state difese Diciamo dai giornali, dagli editori Sicuramente non avrebbe messo paura a quello che io ho fatto Questo va a dimostrare come le organizzazioni criminali Siano sensibili alla comunicazione Tornando alla tua domanda La cosa che mi pesa E soprattutto Vivere sempre Parlo nel mio territorio Continuamente assediato dalla diffidenza Dal fastidio Proprio dal fastidio Cioè il fatto che Sia considerato Una persona che ha sporcato il nido Che ha sputato sulla propria terra Io non so davvero Se sia valsa la pena Nel senso che da scrittore Dico senza dubbio che ne è valsa la pena Perché è stato bellissimo Che un libro Ora Il fatto che l'abbia scritto io C'entra poco Sia arrivato a tante persone Sul piano privato Sinceramente Mi ha tolto talmente tanto Che io non ho alcuna simpatia Per il mio libro E tutto quello che faccio Diciamo anche così di pubblico Ormai lo faccio Per cercare di proteggere Me e le mie parole Uno degli altri problemi Della mia terra è questo Cioè spesso si sceglie O il fronte criminale O il fronte militare La parte maggiore infatti Dei morti Negli attentati Nelle missioni all'estero Sono del sud Italia La storia si ispira A un fatto vero Appunto di questo ragazzo Che era di un paese vicino al mio San Prisco Che muore ragazzino In Afghanistan E parte in Afghanistan Per pagarsi il matrimonio Si era fatto i calcoli Un tot di mesi a Kabul Gli avrebbero permesso Di pagare Un gran pranzo di nozze E il viaggio di nozze Non lo farà mai Perché morirà appunto Bruciato